Siamo alla vigilia del 25 aprile e occorre essere uniti contro le dittature e uniti nella verità. Non facciamo di questa l'aula della mezzogna. Non il 26 febbraio, ma il 9 marzo. La scienza, la scienza qua evocata, diceva che il virus era poco più che un'influenza. Quella scienza è quella a cui si è ispirato questo governo. È detto, è stato detto, è documentato, è stato detto. Non mentite. Allora dite la verità. Non fate di questa l'aula della mezzogna. Almeno qui si apriti il principio di Gian Battista Vico. Verum ipsum factum. E allora avete sentito e avete dato i numeri. Li voglio dare anch'io, no Dattis, no Pagani, dite anche qui 25.000 morti. Non è vero. Non usate i morti per retorica e per terrorismo. I dati dell'Istituto Superiore della Sanità dicono che il 96,3% sono morti per altre patologie. esattamente i dati, i numeri, i numeri, dice questo. È la verità. Colleghi. Voglio leggere. Voglio leggere. Collega. Esattamente così. Vi ho letti tutti. Il 60% sono morti per altre patologie. Detto dall'Istituto Superiore della Sanità. Se non lo sai, studia. Collega Sgarbi, si rivolga alla Presidenza. Sono benvenuti i contagiati e mentre l'Italia e la zona rossa, qui tutti erano senza mascherine. Oggi Basini è accusato perché la deve portare per forza. Siete ridicoli. Non l'avete portata fino all'altro ieri. Sì, esattamente così. In Germania, economia, sanità e scuola, il 4 maggio funzioneranno perfettamente. Siamo uno Stato con minori diritti nell'Europa. Germania ha dato prove di forza e di risposta giusta. Noi qui siamo umiliati ancora una volta dalla Germania, anche della malattia. Abbiamo chiuso il 60% delle imprese. Io do dei dati, caro Trizzino, valli a verificare. Allora, è chiaro che io fui il primo a chiedere la chiusura del Parlamento. Oggi siamo qua, tutti mascherati. L'altra volta c'era soltanto dell'unto, c'erano pochissimi dall'osso. Erano pochi che portavano la mascherina. Oggi si è additati se non la si porta. Ebbene, proprio perché la verità è la cosa più importante, diamo i numeri reali. Non dobbiamo mentire, ci sono certamente dei dati forti. Le leggo anche qua, Trizzino, il 56% in Lombardia, il 14% in Emilia, l'8% in Piemonte, il 5% in Veneto. Non possiamo immaginare di applicare delle norme unitarie con zone così disparate di epidemia. E allora, dico almeno qui, diciamo la verità. Misuriamoci con la Germania, siamo uniti nella liberazione contro l'ipocrisia e le menzogne. Contro le falsificazioni, contro i falsi numeri che vengono dati per terrorizzare gli italiani. I 25.000 morti, lo diceva il professor Bassetti, sono morti di infarto, di cancro. Non usiamoli per umiliare l'Italia, non usiamoli per dare ai cittadini false notizie. Date i numeri, controllateli e sfido in giù di onore, te Trizzino, a guardare i numeri. Collega Sgarbi, si rivolga alla Presidenza. Ho semplicemente detto che i numeri li danno tutti, ma non dirò numeri falsi. Non sono morte in Italia 25.000 persone di coronavirus. Non è vero, è un modo per terrorizzare gli italiani e imporre una dittatura del consenso. È ridicolo! Grazie a tutti! Grazie a tutti!